Goditi la tua passeggiata in sella ad uno scooter elettrico. Da noi puoi noleggiarlo o acquistarlo, tra tanti modelli diversi. Ci trovi alla Galleria Mediterraneo in via San Leonardo 52, a Salerno. Una partita di circa mille tra confezioni e profumi contraffatti, per un valore di quasi 100.000 euro, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Salerno. Nel corso di un'ispezione di un furgone a Sarno, le fiamme gialle della compagnia di Scafati hanno scoperto un bancale con cinque scatoloni, i cui documenti di trasporto attestavano solo in maniera generica e in alcuni casi anche incongruente la natura della merce, indicando quali mettenti alcune società estere. A seguito di un controllo più approfondito, i militari hanno individuato all'interno degli imballaggi numerosi profumi, le cui confezioni riportavano etichette con marchi di note Maison visibilmente contraffatti. Oltre ad essere presenti evidenti difetti di fabbricazione, mancavano del tutto i codici identificativi dei prodotti. Successivamente è stata appurata sia la provenienza che la destinazione della merce, rintracciando tra gli acquirenti anche grandi profumerie dell'agro nocerino sarnese. Sottoposti a sequestro, inoltre, altre centinaia di analoghi articoli irregolari rinvenuti durante le perquisizioni effettuate nelle abitazioni dei rivenditori. Le persone coinvolte sono state denunciate per il reato di introduzione nello Stato di prodotti contraffatti.